Mi spiace. Si può sapere cosa ha intenzione di fare? Sì. Giusto. Sì, va bene. Ok. Io... Sì, vedi... Sì, ma... Non potrei. Got the game on, like we change the key. Che? Danny Brown. Che? Dai, ma vaffanculo! No, cazzo, Ray! Devi riuscire a impedirgli di contattare Dooshan. Hai qualche idea? Usare i router del campus per cambiare la password. Così nessuno potrà usare il wifi eccetto noi. Bella lì, sono con te. Non vogliamo hacker qui. Vattene. Non ci posso credere, davvero. Prova nell'altro modo. Ho preso un hacker. Stavolta finisce che mi compro. Ok. Abbiamo visite. Sbarazzatevi lì. Corpito! Colpi sparati! Base a battuglia. Fate attenzione. Possibili bersagli dalle vostre parti. Sbarazzatevi lì. Non ci potrà. Sbar stresses la salv A. Sbarazzatevi lì. VACHA! Grazie.